Il referendum si era svolto praticamente in quei giorni, 27 milioni di cittadini avevano votato contro le privatizzazioni, avevano arrestato il processo di privatizzazione e si avviò quindi a Napoli il processo di trasformazione dell'area in soggetto di diritto pubblico. Ma l'idea, proprio parlando di un bene comune, l'idea principale era quella di una gestione pubblicistica, gestita attraverso un soggetto di diritto pubblico, ma che fosse in grado di coinvolgere le comunità. Allora io ho sempre parlato di un'azienda speciale un po' più speciale, cioè un'azienda speciale che avesse alcune caratteristiche, in particolare nel CDA la presenza di rappresentanti delle comunità, dei cittadini, la creazione nello statuto di una sorta di parlamentino dell'acqua dove risiedono i rappresentanti dei lavoratori, dove risiedono i rappresentanti dell'associazione ambientalista, degli utenti. e insomma l'ispirazione è quella appunto di affidare ad un soggetto particolare la gestione di un bene così delicato qual è appunto la risorsa idrica. E devo dire che questo ha rappresentato sin dall'inizio uno spartiacco incredibile, perché è stata la vera svolta, la prima grande svolta dell'utilizzo di una soggettività, di uno strumento di natura pubblicistica reattivo rispetto a dei processi che sembravano ormai aver sfondato completamente, cioè i processi di privatizzazione. Tenga presente che gli interessi erano fortissimi, c'erano interessi, ho parlato prima della devastazione della finanza pubblica, c'era una finanza ovviamente di natura privatistica molto interessata ai processi di privatizzazione, c'erano dei progetti estrattivi di predatori da parte delle ex aziende municipalizzate, ormai non avevano nulla delle municipalizzate ma delle vere e proprie società per azioni, c'erano interessi provenienti da ex soggetti dito pubblico stranieri trasformati ormai in soggetti privati, penso a Violià, Vivendi prima, Violià oggi, e quindi a fare affari sul nostro territorio sui beni comuni. Ovviamente là si apre un percorso, un percorso che vede tante altre battaglie importanti alle quali pure ho partecipato, penso alla questione dell'acquedotto pugliese per esempio, che è ancora un capitolo assolutamente aperto, c'è un fronte aperto, proprio il comitato d'acqua pubblica, acqua bene comune della Puglia, di Bari, ha più volte spinto per dei tavoli tecnici ai quali ho partecipato, proprio per la ripubblicizzazione di ACUPSPA in un'azienda invece speciale e c'è un progetto che io ho realizzato, che mi avevano chiesto appunto proprio dal punto di vista tecnico, questa trasformazione che è sul tavolo del Presidente dell'Aggiunta Emiliano, ma che purtroppo non riesce a essere messo in discussione. Ci sono tante altre specie, ci sa la stessa legge di iniziativa popolare nella Regione Lazio, ad esempio per quanto riguarda la ripartizione dei bacini idrografici, perché anche lì ovviamente i progetti predatori tendono ad un unico bacino idrografico molto poco rispettoso delle peculiarità ambientali e territoriali, perché si cerca più di fare un discorso geopolitico e quindi di affidare i poteri nelle mani di un suo soggetto.